Ma il Movimento 5 Stelle insiste sulle proprie posizioni. Gli incontri con il PD che gioca a prender tempo hanno chiarito le posizioni. La prossima settimana è in calendario l'immunità e poi sarà la volta delle preferenze. Vedremo il PD alla prossima settimana dei fatti, se è disponibile davvero a collaborare. Noi saremo coerenti con le nostre posizioni.